Abbiamo assaltatori su Yavin 4. Dopo la distruzione della Morte Nera, i comandanti sono stati evacuati, ma i nostri database sono ancora intatti. L'impero non deve rubare i dati al loro interno. Faranno al solito modo. Distrutti i turbo laser esterni avanzeranno verso il bunker. Ormai la base è perduta, ma possiamo respingerli finché non avremo cancellato i dati e lasciato il pianeta. Torretta pronta! 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 Grazie a tutti. 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 Sono al turbolaser ovest. Finora qui va tutto bene. Ecco il fuoco di supporto! Detonatore sul turbolaser ovest! Che la forza sia con noi! Picco di energia al turbolaser ovest! Disarmate quelle cariche! Sapete con chi avete a che fare! Aspetta! No, no. Non vincionete! Non vincere! Non vincere! Non vincere! Non vincere! Non vincere! Non vincere! Dovevate venire qui? Non vincere! 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 Via libera! Gli imperiali possono tenersi in llave! Raggiungeremo i comandanti presso una nuova base e da lì passeremo all'offensiva! Non vincere! Non vincere! Non vincere! Non vincere! Non vincere! Non vincere!